Dalla lotta alla pirateria stradale alla gestione degli eventi molto affollati, dal contrasto alla microcriminalità alle regole della videosorveglianza. Venerdì 17 maggio l'autodromo di Imola ha ospitato il focus sulla sicurezza urbana organizzato dalla Polizia Municipale. Sette sessioni tematiche insieme ad esperti delle diverse materie e anche momenti pratici come le esercitazioni con gli istruttori. Il focus è molto generico, sicurezza urbana quindi lo scibile eccetera, in particolar modo parleremo di videosorveglianza, di controlli stradali, autotrasporto, TSO vale a dire quei provvedimenti che riguardano persone con problemi psichiatrici e quindi spazieremo anche sull'autotrasporto internazionale. Quindi diciamo che è un focus a 360 gradi su tutte le problematiche e le materie operative che riguardano la Polizia Locale. Nel far questo abbiamo anche relatori di alto livello per cui è un momento assolutamente di formazione e di autoformazione.